Un'occasione per comunicare lo stato dell'arte dei progetti finalizzati ad accrescere la rete e la qualità infrastrutturale dell'Abruzzo. Il primo degli appuntamenti in programma, dislocati in varie località abruzzesi, si è svolto ieri ad Atessa. Organizzazione dell'azienda regionale delle attività produttive, l'Arap, insieme alla Sangritana. Dobbiamo raccontare quello che dovrà essere perché l'Arap, insieme alla regione Abruzza, ha una visione di sviluppo e questa visione va condivisa con le imprese perché spesso manca la comunicazione. Quindi noi iniziamo una serie di incontri sul territorio con le imprese per fare di questo incontro un incontro caratterizzato non da un'impronta autoreferenziale. L'obiettivo qual è? È quello di aumentare i servizi per le imprese. Oggi si parla di competitività, si parla di PNRR, di investimenti nazionali, di investimenti internazionali. Spesso in questi frangenti, sui filoni dei finanziamenti, ci si scorda dei luoghi dove si fa impresa, cioè delle aree industriali. Al sud, con l'imbostazione che è stata data praticamente circa 40 anni fa, quindi con i nuclei industriali in cui risiede l'80% del tessuto produttivo industriale del centro sud, noi abbiamo la necessità di sancire qual è il patto verso le imprese, il patto col territorio, perché quegli investimenti ormai sono lontani. C'è bisogno di nuovi investimenti, perché l'ICT, le strade, l'illuminazione, la depurazione, l'energia non possono pensare a quello che è stato, devono pensare ai nuovi progetti che poi rendono competitivo il territorio e rendere competitivo le aree industriali significa rendere competitivo il paese. Qual è la novità che possiamo attenderci sotto il profilo infrastrutturale? Le novità, soprattutto quella che riguarda l'energia, oggi proprio questa mattina il Consiglio di Amministrazione di Arap ha giudicato la gara per la costruzione della nuova società che prenderà il nome di Arap Energia e saremo in tutti i nuclei industriali per costruire impianti fotovoltaici e per distribuire energia verde alle imprese insediate. Questa credo che sia la notizia dell'ultimo momento.